Siamo oramai in una stagione calda, il sole per noi è utile, noi siamo animali diurni, ma attenzione agli eccessi di sole. Il sole tende a disidratare la nostra pelle e di conseguenza la superficie può anche alterarsi. Questo può portare più facilmente a delle infezioni come i funghi o le verruche che in estate sono molto frequenti. È per questo che una corretta alimentazione ricca di oligoelementi può essere utile per mantenere compatta e più forte la nostra pelle. Stessa cosa vale per i vasi capillari che d'estate soprattutto con il calore tendono a dilatarsi eccessivamente e a rovinarsi portando alla formazione di cuperose o di quelle ragnatele di vasi che vediamo sul viso. In questo caso gli antocianosidi che sono presenti in grande quantità nei frutti di bosco, more e mirtilli possono aiutarci e non trascuriamo l'idratazione profonda. In estate si perdono grandi quantità di acqua. Abbiamo visto che gli omega 3, gli omega 6 contenuti nel pesce azzurro o anche in alcuni particolari semi e tra questi i semi di sesamo che sono presenti nei grissini o nelle insalate possono essere di grande aiuto per mantenere una buona idratazione profonda. In questo modo arriveremo in autunno al dopo tintarella al ritorno a casa o negli uffici con una pelle ancora sana, una pelle integra, più elastica e anche e anche a rompa bronzata.